E' stato ritrovato dai carabinieri in una pozza di sangue gravemente ferito a terra in via Rossarolla a Napoli intorno alle 4.30 del mattino. In testa una profonda ferita. E' morto così poco dopo il trasporto in ospedale un extra comunitario di origine africana proveniente dalla Somalia di 52 anni circa la scorsa notte a Napoli. L'uomo è stato portato da un'ambulanza all'ospedale Loreto Mare. Purtroppo è deceduto durante il tragitto. I carabinieri della Compagnia Stella e della sezione investigazioni scientifiche e del nucleo investigativo di Napoli hanno avviato le indagini. Al momento non si esclude l'ipotesi dell'omicidio. L'extracomunitario potrebbe essere stato aggredito con un oggetto che gli ha provocato quella profonda lacerazione alla testa tale da condurlo in breve tempo alla morte. Secondo quanto avrebbe riferito un testimone invece l'uomo in forte stato di ubriachezza avrebbe battuto pesantemente la testa. I militari stanno cercando ulteriori riscontri. La pioggia di questa mattina purtroppo ha cancellato le tracce di quello che potrebbe essere un banale incidente ma non si esclude un litigio o un'aggressione vera e propria messa in atto con la volontà di uccidere. Per questo sono stati acquisiti i filmati delle telecamere della zona da cui i carabinieri sperano di tirare fuori elementi utili a fare luce sul giallo.